Salve a tutti ragazzi, c'è Ghia in questo nuovo video sul canale nella gara di Imo, la feature race, it's five red lights, and away we go! Parte la gara sullo schieramento le 22 vetture con uno schieramento consono alle prestazioni per la minardica palibarna, ma una pessima partenza per El Alamein che viene superato da tutti gli altri concorrenti si ritrova ultimo, ma staccatona furibonda di El Alamein, che fiancheggia il suo compagno di squadra, si inserisce, è leggermente largo, non proprio corretta la sua manovra, rivediamola. Vediamo prima l'onboard di Nikolas Latifi, notiamo la differente velocità con cui si approccia El Alamein, ma poi l'onboard di Piastri che mostra come è stato schiacciato in seguito all'ingresso, non esattamente corretto da parte sua, con Stolco stretto a fare la parte della seconda fetta di pane per non volare fuori pista. Guardiamo anche un replay della partenza con Valtteri Bottas che anche gli tenta una staccata incredibile, tuttavia poi deve alzare il piede perché si ritrova nella stessa condizione in cui si è trovato El Alamein con differente vigore. E ora seguiamo di nuovo El Alamein, ci si avvicina alla Tosa il tornantino di Imola all'interno di Sebastian Vettel. Vanno larghi, vanno larghi in due, si toccano le automobili e ad approfittarne è Oscar Piastri. Rivediamo questa scena dall'onboard di Oscar Piastri che all'interno rende par per focaccia al suo compagno di scuderia, nonché proprietario, e si prende la sedicesima posizione. Alla fine del primo giro Nicolas Latifi all'inseguimento di Lance Stroll scatenato su una Williams scatenata, vediamo che mostra di averne nettamente di più, forse è uscito meglio dalla seconda di Rivazza, ma poi smicchia la prima frenata, largo e Stroll si tiene la posizione. Tuttavia Latifi non è cliente facile, non è pilota che demorde e quindi alla seconda variante subito ci riprova, intanto notiamo un largo di Sebastian Vettel e alla fine ha ragione di Lance Stroll che è costretto a cedere la posizione. Vediamo ora scatenate le Williams che subito dietro Alexander Albon si dà battaglia con Guan Yu Zhou sulla Piratella, di solito non si passa in due alla Piratella, pazzesco, si scende alle acque minerali e Alex Albon riesce a superare Guan Yu Zhou e portarsi in ventesima posizione. Però attenzione che la regia ci ripropone la scena di Nicolas Latifi con Lance Stroll, dove notiamo che l'ala di Stroll ha patito un danno a causa del lungo di Nicolas Latifi e per questo infatti alla fine del giro notiamo che Stroll rientra e quindi è gara finita per Stroll, a meno di qualche miracolo o di una safety car. Intanto Guan Yu Zhou alla fine del rettilineo decide di riprendersi tutto quello che è suo, combatte con Alexander Albon che non cede ma la terza curva è in favore di Guan Yu Zhou. Nel mentre Oscar Piastri ha avuto anche gli un problema, dopo il sorpasso c'è stato un tamponamento a rotolale dovuto rientrare ai box ed esce in ultima posizione ma risupera Lance Stroll sul pit lane. E intanto Norris all'esterno su Alonso alla prima chicane, pazzesco, ma la terza curva va in favore di Alonso, forse se l'è scordato e infatti l'attacco non riesce. Ma bella battaglia in questa Imola che non sembra neanche Imola, sembra quasi Monza per il numero di sorpassi. Intanto El Alamein al quinto giro insegue Pierre Gasly dopo aver messo due secondi tra sei Sebastian Vettel, un cuscinetto che gli dà sicurezza, mentre tre decimi lo separano dal concorrente davanti a lui. Tuttavia non sembra impresa facile. Pierre Gasly è la nemesi di El Alamein Prost in queste ultime gare, a quanto sembra. Lo scontro tra i due è sempre più acceso ma quest'oggi Pierre Gasly sta rendola meglio. Intanto, sesto giro, Max Verstappen, Tental Undercut insieme a Carlos Sainz. Riusciranno a superare Charles Leclerc o il traffico li punirà? Lo vediamo ora dall'inquadratura di El Alamein. Stanno sopraggiungendo alla pit lane. Max Verstappen scende di posizioni. E El Alamein Prost lo supera. Mentre l'inseguimento di Prost su Gasly ricorda quasi un altro inseguimento di un universo alternativo, forse di un altro video che già avete visto, in cui Pierre Gasly ha detto che non è stato molto difficile tenere dietro un sette volte campione del mondo. Vedremo se sarà difficile tenere dietro. E El Alamein Prost intanto Guanyu Joe scatenato su Nicolas Latifi all'esterno della prima curva e poi però staccata sul cordolo, non esattamente efficace. Ruota a ruota, corpo a corpo, ma Nicolas Latifi mantiene la posizione. Pazzesco Latifi, on fire oggi. E Guanyu Joe però prova a farsi vedere all'interno della seconda chicane, ma nulla da fare e si va alla tosa a posizioni invariate. Intanto El Alamein Prost al giro successivo ancora tenta di inseguire Gasly. Non sono ancora rientrati nessuno dei due. Forse la strategia la farà da padrona in questo caso, ma per adesso è un altro giro congelato in queste posizioni con provvisorio terzo e quarto, ma ovviamente non veritiero. Carlo Sainz intanto e Max Verstappen si trovano nel traffico dietro a un Guanyu Joe che sembra opporre resistenza. Dovrebbe far passare Max Verstappen, o meglio non dovrebbe, ma la sua gara non è con lui. Vediamo che pone resistenza in staccata, ma Verstappen ha ragione di Guanyu Joe, l'olandese, l'orange è inarrestabile. E ora vedremo Carlo Sainz cosa riuscirà a fare, ma subito si allarga alla seconda chicane e lo supera. Senza alcuna difficoltà, sembra quasi che Guanyu Joe come team clienti abbia fatto delle preferenze in questo sorpasso. E torniamo a onboard di Alamein, che all'ottavo giro decide per l'Handercat su Gasly. Infatti egli rientra, ma Pierre Gasly no. Funzionerà? Di nuovo lo scopriremo nel mentre Max Verstappen è rientrato, o meglio Charles Leclerc è rientrato davanti a Max Verstappen e Carlo Sainz, quindi tutto invariato nella P1 virtuale della gara. Il pit stop di Alamein intanto sembra andare tutto a secondi piani. Vedremo dove uscirà e quali saranno le condizioni con cui ripasserà sulla pit lane al prossimo giro. Ne sarà valsa la pena di fare questo Undercat? Rientra in sedicesima posizione intanto. Guardiamo di nuovo Nicolas Latifi che si fa vedere negli specchietti di Oscar Piastri dopo essere rientrato e riuscito dietro ad Oscar. e subito alla prima curva lo sorpassa un Latifi che non ha certo un'auto prestante, ma che quest'oggi è prestante lui come pilota. Fenomenale Latifi con manovre relativamente pulite, a parte un errore. Molto bravo Latifi. Torniamo su Alamein invece, che insegue Gasly. Gasly sta uscendo dalla pit lane e riesce l'Undercat. Instaccata alla prima curva. Arriva veloce Alamein. Riesce l'Undercat su Pierre Gasly per un pelo, ma riesce. Meravigliosa strategia, meraviglioso outlap di Alamein, che a fronte di un pit stop perfetto per Pierre Gasly riesce comunque a guadagnare la posizione. E ora l'obiettivo è Mick Schumacher, figlio d'arte, che con una ass nettamente più performante della Minardi non sarà un cliente facile. Andiamo alla variante Casini. con Alamein che esce largo, perde su Schumacher, ma Pierre Gasly ha già due secondi di distacco. Le gomme fredde si fanno sentire e quindi Alamein può star tranquillo e rimanere concentrato su quello che è il vero obiettivo della sua gara. Si lanciano sul rettilineo e Alamein prende la scia di Schumacher. E intanto Tsunoda ha tentato l'overcut, ma ha fallito perché di nuovo è finito dietro Alamein, che intanto blocca una ruota, ma riesce a entrare su Schumacher che va largo. Incredibile! Rivediamolo dall'onboard di Schumacher. No, di... E Alamein, scusatemi. Ecco, sorpassa Tsunoda. E ora la staccata dove blocca la ruota, ma anche Schumacher blocca. Ecco perché è andato largo e... Prost ha la meglio e supera anche Mick Schumacher. E ora davanti a lui, tra lui e i punti, c'è solo Valtteri Bottas. Ma attenzione! Staccata, curva 1! Errore di Mick Schumacher, errore di valutazione, che tampona Alamein, danneggiando la propria vettura e forse anche quella di Alamein. Rivediamolo dall'onboard di Schumacher, che stacca prima. Lo spazio c'era, ma a quanto pare pensava di averne di più a disposizione. O forse ha perso il controllo dell'auto per un attimo. E distrugge l'Ala. Fortunatamente nessun danno sembra per ella la main, che tuttavia ora ha 4 secondi da Bottas. E quindi la gara, purtroppo, a tre giri dalla fine sarà molto difficile che cambi per lui. I punti sembrano sfumargli davanti. Intanto Yuki Tsunoda prende il posto di Mick Schumacher. Si approfitta dell'ala rotta di Mick alla tosa. Ci avviciniamo alla Piratella. Yuki Tsunoda blocca le gomme fredde, le gialle. E quindi Mick senza ala. Comunque risorpassa Yuki. E attenzione che Yuki Tsunoda fa anche un rientro molto barbino e rischia di fare un danno colossale di scuderia perché stava arrivando il compagno Pierre Gasly che prende una ruotata, fortunatamente nulla più. E sembrano non esserci danni. Yuki Tsunoda che dovrebbe essere punito per questa manovra. Vedremo se lo sarà. Intanto Oscar Piastri supera anche danni a Ricciardo, ai box e Mick Schumacher che cambia l'ala. Quindi weekend a dimenticare, ma almeno qualche posizione strategicamente recuperata. E andiamo quindi a vedere il finale dove a nulla è valso l'undercut di Verstappen che arriva a seconda letto a Charles Leclerc poi Carlos Sainz e un'antifona già sentita con le due Mercedes a seguire. Continuiamo quindi con la fine dell'ultimo giro anche per le altre autovetture. Ma intanto l'ala main si dirige solitario a causa dell'incidente davanti ad entrambe le Alfa Tauri di nuovo mostrando che il talento può battere le prestazioni e io vi ricordo che se questo video vi è piaciuto c'è un'intera playlist ce ne sono tanti altri che devono uscire. Cliccate quel subscribe button che c'è ancora tanto da vedere insieme e si porta a casa un'onesta undicesima posizione potevano essere punti non li sono stati ma è una vittoria che vale sicuramente onore, merito e morale anche se non vale punti per il povero governatore che rimane a bocca asciutta. E con questo io vi saluto e vi ringrazio e come sempre vi rimando ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi alla prossima gara.